Questi sistemi hanno la funzione, oltre che di assistere il chirurgo, anche di ridurre fortemente le principali fonti di errore. Infatti abbiamo visto come rispetto a una chirurgia refrattiva LASIC in cui siamo arrivati a un 95% dei pazienti che ha un risultato entro la mezza diottria, nella chirurgia della cataratta moltissimi chirurghi, moltissimi ottimi chirurghi, sono ancora al 60-65% entro questa fascia. Quindi una fascia leggermente più bassa, mentre solamente pochi chirurghi, cioè un 2%, riescono ad avere nel 90% dei casi questo risultato. Il problema è legato ad una serie di variabili che conosciamo bene, come la ciclotorsione dell'occhio durante la chirurgia, la imprecisione con cui si fanno le marcature, il fatto che si usano calcolatori multipli, che a volte ci fanno parecchia confusione, errori anche nell'inserire i dati fra una macchina e l'altra, un calcolatore e l'altro, la posizione dell'incisione che noi pensiamo di fare su un asse, ma in realtà non è perfettamente preciso, e poi anche il fatto di calcolare il potere effettivo della lente. Quindi questi sistemi hanno la capacità, nella nostra esperienza, di ridurre un po' tutte quelle che sono queste variabili. Quindi iniziamo a vedere delle immagini con cui abbiamo già in parte familiarizzato durante questa sessione, e qui vi mostro una delle prime lenti toriche che io ho impiantato, vedete che è una lente in silicone, che per garantire la stabilità nel sacco aveva ideato di avere questi piedini zigrinati. Una lente con delle anse molto grandi, anche abbastanza difficile da impiantare, che però è quella con cui siamo partiti già nel 2006. Quindi per dire che le lenti toriche hanno una vita, hanno un'esperienza già molto molto importante. Ci eravamo resi conto subito come la marcatura fosse una delle parti fondamentali. In realtà la marcatura dipende troppo dalla manualità, cioè quando la facciamo col paziente seduto, la lampada fessura, per cui ci eravamo impegnati anche personalmente a disegnare dei marcatori che si montavano sul tonometro da planazione e che avevano il vantaggio di trovare il paziente seduto. Ed io per un certo periodo, e anche chi ha utilizzato questo strumento che avevo disegnato, ha trovato notevoli vantaggi. Solo che anche qui ci sono dei problemi. la marcatura tiene poco tempo, cioè se si ha un problema col paziente precedente, poi si rischia di arrivare in sala operatoria e il paziente non è più marcato, oppure è sbiadita. Quindi la stessa marcatura ha dei limiti, per cui dobbiamo superare un po' tutti questi piccoli ostacoli per arrivare a quel 90%. Quindi avere una ghiera, come in questo caso, vedete, che ci dice questo è la tua incisione a 180 o 0 gradi, la devi fare qua, questa ci dà una grande sicurezza. Vedete, alla fine dell'impianto avevamo queste marcature che potevano essere anche non perfettamente sul centro geometrico della cornea e invece oggi abbiamo un sistema, che è questo, che è perfettamente sul centro geometrico della cornea. Per cui questi problemi passo a passo ovviamente li stiamo superando. Ma qual è la cosa ancora più interessante? Che possiamo anche verificare nel tempo se abbiamo fatto bene. Cioè io ho posizionato la mia lente e voglio andare a vedere dopo un mese se la lente è rimasta in quella posizione. Per cui riporto il paziente in sala operatoria, reinserisco nel mio computer il nome del paziente, lui mi dice avevi impiantato a 116. Hai un'immagine? Dopo un mese vedo se è ancora a 116. Quindi posso notare anche quelle piccole differenze che mi giustificano alcune imprecisioni da un punto di vista refrattivo. E questo è quello un po' che vedete quando andate ad utilizzare il computer, l'avete già visto prima, c'è questo overlay di un altro colore che effettivamente aiuta moltissimo il chirurgo. Io ormai questa tecnica la uso un po' per tutte le mie chirurgie. Qui vedete per esempio per il posizionamento di una ICL torica, quindi per correzione di miopia elevata ed astigmatismo. Il vantaggio quindi di avere questa tecnologia si deve poi tradurre, secondo me, oltre che in un risultato, anche in un risparmio di tempo, in una reale utilità, perché poi sono strumenti che costano. Bisogna addestrare chi li utilizza, bisogna avere anche uno spazio nel nostro studio dove metterlo. Per cui tutte queste verifiche ovviamente devono determinare una miglioria in quello che è il nostro risultato. Intraoperatoriamente non si discute, abbiamo visto prima, qui posizioniamo l'incisione, e qui la paracentesi, la Ressi viene fatta seguendo questa sovrapposizione che può essere di 5, 5,2, 5,5, cioè la possiamo customizzare, così come il posizionamento della lente ci risparmia ovviamente da moltissime sorprese. Allora io dico finisce qui, cioè preparazione e intra? No, il bello secondo me viene nel posto operatorio, perché con questi strumenti siamo anche in grado di fare un check su quello che è andato bene e su quello che non è andato bene, cioè risalire subito a quello che può essere il piccolo errore. Qui vedete questo è un paziente in cui abbiamo corretto con una IOL, un cilindro, un astigmatismo di 2.71, quindi una cataratta più astigmatismo. Tutti i dati sono presi correttamente, si programma secondo questo calcolatore una lente che corregge tutto l'astigmatismo ma lascia circa 1,50 di miopia, si va a riacquisire nel posto operatorio la stessa immagine, ovviamente si rifà il calcolo con lo stesso sistema, io sono in grado già di dire quanto astigmatismo lo è terminato con la mia incisione, quanto questo paziente ovviamente ha recuperato con questo meno 1,50 e se tutto è stato fatto nel modo corretto. E qui tutto coincide, quindi refrazione post-operatoria, astigmatismo indotto e risultato finale. Non sempre però è così, questo è un altro caso, sempre cataratta e astigmatismo. Parto da un pre-operatorio con un bollino giallo, che vuol dire che qui i poteri corneali, la macchina dice, non sono troppo sicura di averli acquisiti. Si procede ugualmente col calcolo, si procede con la chirurgia, che non ha complicanze e si arriva al post-operatorio, si riacquisisce l'immagine, questo paziente va molto bene ma è rimasta una sfera di più 0,75. Allora che cosa è successo? Perché ho questa problematica? Con questa semplice immagine ho già tre livelli di controllo, cioè il mio astigmatismo indotto era realmente quello che io programmo e con questa macchina lo calcolo. La keratometria per esempio è quella giusta? La macchina dice forse, perché ho un bollino giallo. L'asse di impianto della IOL è quello corretto? Lo posso verificare. Quindi faccio tutti i miei controlli, anche confrontando la keratometria con altre macchine, andando a rivedere per esempio il filmato e il fermo immagine di dove ho posizionato la lente in modo da capire quello che è successo. In questo caso il problema era quello di una keratometria non corretta. Però in realtà ho un risultato refrativo disatteso, so già cosa significa e qual è la fonte. Ultimo esempio che vi mostro è un paziente con keratocono, operato di keratoplastica lamellare, al quale dopo qualche anno, vedete nel 2015, è insorta una cataratta per cui due decimi naturali e tre quattro con un cilindro di meno sei. Si programma un intervento di cataratta con una lente che possa correggere questo astigmatismo. Siamo consapevoli che nella postchirurgia della cornea l'astigmatismo è con una componente anche irregolare. Vedete la macchina non è assolutamente in grado di calcolare l'astigmatismo e di prendere i cappa perché è troppo irregolare. Però detiene l'immagine dell'occhio e questo è quello che io voglio in questo momento. Cioè ho l'immagine, i vasi sclerali, l'iride meno interessante e il limbus. I cappa me li vado a prendere con la mia immagine del tomografo e quindi me li prendo da qua. L'asse dell'astigmatismo me lo prendo dal tomografo però lo vado a inserire nel mio programma. Quindi questa sarebbe la refrazione, questa qua sotto meno 0,10, meno 1,50 se impianto questa lente calcolata. Una lente torica con correzione sul piatto di 6 diottrie. Effettuiamo la nostra chirurgia. Qui cosa sarà fondamentale? Sarà fondamentale avere l'asse di impianto. Se sbaglio anche l'asse di impianto insieme a tutte le altre variabili la chiratometria, la quantità di astigmatismo ovviamente la correzione sarà sempre meno precisa. E invece questo è un parametro che a me serve molto. Vado a ricontrollare anche le chiratometrie postoperatorie tutto va bene e vedete questo è il risultato finale. 3, 4 decimi naturali e 8 decimi con meno 0,50, meno 2,50 quindi una buona aderenza a quello che doveva essere il risultato previsto considerando sempre la quantità di componenti irregolari. Questo per dire come i sistemi ci possono effettivamente aiutare in tutte le chirurgie che noi facciamo ma soprattutto possono migliorare la precisione di tutte le nostre scelte anche della costante della lente. Sapete che le ditte forniscono delle costanti che sono di massima ma il chirurgo le può personalizzare. Mettendo nella macchina 20 refrazioni postoperatorie di 20 chirurgie uno inizia a avere la personalizzazione per ciascuna lente di quella costante. Per cui direi la strada è sicuramente questa per standardizzare e rientrare in quel 90-100% di casi in cui siamo più o meno 0,50 di quello che è il risultato finale che vogliamo ottenere. Per concludere io vi dico che tutte queste problematiche le affronteremo quest'anno a Rimini per il ventesimo congresso dell'AICER 9-11 marzo che ha proprio dei focus ovviamente su tutta la chirurgia pseudo-robotizzata della cataratta. Quindi non ci sono dei robot ma ci sono delle macchine che ci consigliano cosa fare e come meglio farlo. Grazie.